Now and then, di tanto in tanto, ma che cos'è la nostalgia? E soprattutto la musica produce nostalgia, osservano le parole. Beh, diciamo che ancora adesso chi è diversamente giovane sente fischiettare Yellow Submarine e ha ricordi di ginocchia sbucciate, di cartella della scuola da preparare, di astucci, matite, di merende. E ancora adesso chi ascolta Hey Jude si ricorda di come quella musica abbia chiuso un'epoca, un'epoca felice, straordinaria. In sette anni i Beatles, i quattro ragazzi di Liverpool, hanno prodotto capolavori per i quali è anche disagevole comporre antologie. Quando ne hanno voluto comporre una, hanno fatto one e hanno dovuto scegliere un criterio. Il criterio era di mettere le canzoni che erano andate in classifica al numero uno. Ma le canzoni più belle dei Beatles sono quelle che sono andate in classifica al numero uno? No. Le canzoni più belle dei Beatles sono moltissime, sono tutte quelle che voi che siete qui stasera, ma che tantissime persone nel mondo ricollegano ai ricordi, agli amori, agli anni della giovinezza. Ma sono anche le canzoni che in maniera stupefacente coinvolgono generazioni che i Beatles non li hanno mai conosciuti davvero, nella loro contemporaneità, diremmo oggi. Oggi, su questo palcoscenico, vedrete uno spettacolo fantastico che vi parla di come la musica non può essere catalogata, non può essere etichettata. Noi sentiamo spesso parlare di musica classica, di musica jazz, di musica leggera, quasi quando si dice musica pop è musica leggera con un tono quasi dispregiativo. Ebbene, i Beatles sono la prova quasi vivente che la musica pop, la musica leggera, quella che i ragazzi ascoltavano sui loro giradischi mono, che ascoltavano alla radio, diventa classica. E com'è che la musica leggera diventa classica? Diventa classica nel momento in cui quella musica viene replicata. Pensate che Yesterday, che è il titolo di questo spettacolo, è un brano che ha 422 cover. È stata incisa ufficialmente altre 422 volte dopo l'incisione di Paul McCartney. E Something, che è un'altra canzone che stasera ascolterete, ha 150 cover. Le canzoni che stasera saranno richiamate non vengono eseguite in una scaletta che sarebbe del resto banale. Non farebbe, fra l'altro, onore ai musicisti che abbiamo, che sono musicisti splendidi, meravigliosi, che hanno una formazione classica, che frequentano il jazz e che sanno tradurre le emozioni in musica. Questi brani saranno collegati da composizioni, da cantabili del maestro Enrico Pasini e da improvvisazioni di Raimondo Dore, che credo ben conosciate, e anche di Daniele Pasini, che è diventato un nostro ospite già nella scorsa estate in un bellissimo concerto al Nuraghe di Palmavera. Le canzoni saranno unite, saranno collegate da questi intermezzi musicali di improvvisazione e di altra musica. E sono brani, li riconoscerete, perché non vengono cantati, ma li riconoscerete, ne riconoscerete le note, che portano dentro, e per questo sono stati scelti, oltre che per l'efficacia, che si portano dentro dei ricordi. Ce n'è uno in particolare molto simpatico, pensate che i Beatles vengono fuori nella primavera del 1963 in concomitanza con l'esplosione turistica di quest'area della Sardegna. E arrivavano gli turisti inglesi qui, e insieme con i turisti inglesi evidentemente arrivavano quelle canzoncine, quei motivetti. Nel contempo i nostri ragazzi, i nostri giovani, iniziavano a scoprire l'Europa e qualcuno di loro si portava dietro i dischi dei Beatles. Ce n'è uno che io conosco, che so che è presente qua stasera, che nel 1964 è arrivato con un LP che si chiama With the Beatles e che veniva visto da tutti, veniva invidiato da tutti, visto come una grandissima novità. Bene, voi forse non sapete che una canzone minore dei Beatles, che si chiama Octopus is Garden, che stasera verrà eseguita, è stata composta in Sardegna, lo sapevate? Bene, è stata composta su una barca a largo delle coste della Sardegna. Ringo Starr, che è un buon tempone, aveva chiesto di mangiare fish and chips. E gli avevano somministrato un calamaro con le patatine, e lui si era lamentato perché non aveva il suo merluzzo. E quando Peter Sellers, che lo ospitava sulla barca, gli ha chiesto come fosse il calamaro, ha detto che è un po' gommoso e sa di pollo. Però poi il capitano della barca gli raccontò il comportamento dei polpi. E disse a Ringo Starr, sai che i polpi costruiscono un giardinetto davanti alla loro tana, con le pietre, le conchiglie e tutti gli oggetti che sbrilluccicano. Naturalmente i polpi lo fanno per attirare i pesci. Però lui rimase affascinato da questa cosa e ci compose questa, una delle poche canzoni dei Beatles composte interamente da Ringo Starr. E forse voi sapete anche che Yesterday, prima di chiamarsi così, si chiamava Scrambled Eggs, cioè Uova Strapazzate. Voi immaginate che una delle canzoni più struggenti e più romantiche della nostra cultura popolare è nata come Uova Strapazzate. E forse sapete che Something, la bellissima canzone di George Harrison, era dedicata a una donna, che questa donna era verosimilmente Patty Boyd, una bellissima modella, e che questa donna gli fu portata via da Eric Clapton, che nel frattempo aveva iniziato a suonicchiare qualcosa insieme ai Beatles, aveva inciso alcune canzoni dell'album bianco del doppio dei Beatles, che tutti conosciamo come il White Album. Bene, accade che una sera ad una festa, George Harrison ci andò con Patty Boyd, ma alla fine Patty Boyd se ne andò con Eric Clapton. E accade anche che Hey Jude, l'inno di cui prima vi dicevo, è stata composta da Paul McCartney per consolare Julian Lennon. La canzone originariamente si chiamava Hey Jude, e serviva a consolare Julian, perché Cinzia e John Lennon si erano appena separati, o si stavano separando. Il ragazzo, il figlio primogenito di John, era molto triste. E allora Paul, per consolarlo, scrive questo testo, Hey Jude, Paul, poi credo su richiesta di John ha dovuto modificare il nome per evitare che ci fosse un riferimento troppo esplicito. C'è tutta un'aneddotica che gira intorno ai Beatles e alle canzoni che stasera sentirete, ma la cosa che forse ancora non sapete, ma magari alcuni di voi la sanno, sapete che alcune delle canzoni dei Beatles hanno un'ispirazione classica. Per esempio, All You Need Is Love, che adesso viene, devo dire, anche non gradevolmente utilizzata per pubblicità e sigle di improbabili programmi televisivi, ha una costruzione all'interno che si assimila all'aria sulla quarta corda. Bach è il paradigma di molte cose, stasera poi magari riuscirete a coglierlo. Bene, i Beatles erano musicisti, avevano competenze inconsapevoli, hanno iniziato da dilettanti. John Lennon notoriamente non sapeva leggere la musica, almeno inizialmente. Suonava la chitarra, c'è voluto del tempo per spiegargli che la chitarra ha sei corde e non cinque. Paul McCartney era un po' più intraprendente, un po' più avanti su queste cose. Nel tempo però loro hanno affinato la loro cultura, la loro produzione, hanno smesso di fare i concerti, non reggevano più il ritmo dei concerti, ma soprattutto durante i concerti non riuscivano più ad ascoltarsi, perché erano tutte urla di ragazzine, tutte voci, problemi di sicurezza, loro non riuscivano più a reggere i concerti, allora si sono chiusi in studio e hanno tirato fuori una stagione formidabile, da Rubber Soul, Revolver in avanti, una stagione compositiva incredibile, che si è conclusa soltanto nella primavera del 1970 e si è conclusa dal vivo con il concerto sul rooftop, sul terrazzo di un palazzo londinese e si è conclusa in studio con Ebbe Road. Bene, alla fine di tutto questo, loro in una lunghissima suite, che è la suite finale di Ebbe Road, cantano delle cose, intanto i versi di una canzone che si chiama Golden Slumbers, una volta c'era una strada che ti riportava a casa e cantano una ninna nanna che è una consolazione per le loro fan e poi si dicono l'un l'altro you've got to carry that weight, cioè dovrai portare questo peso. Ognuno dice agli altri tre ricordati noi ci stiamo sciogliendo, la storia finisce qui, ma tu sarai per sempre uno dei quattro Beatles, uno di quelli che i Rolling Stone chiamavano il mostro a quattro teste. Mick Jagger e Keith Richards quando si imbattevano di Beatles dicevano oddio il mostro a quattro teste. E alla fine della esecuzione c'è The End, La Fine, dove tutti, per la prima volta Ringo Starr fa un assolo di batteria e gli altri fanno i loro assoli di chitarra e concludono dicendo che alla fine l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato. Ora, il tempo delle parole è esaurito, io ho voluto raccontarvi qualcosina per spiegarvi il senso della rievocazione che stasera avverrà, grazie anche agli splendidi musicisti che saliranno fra un attimo sul palco. Il tempo delle parole è esaurito, io vi ringrazio di essere qui e naturalmente adesso passerò di là per vedere questo spettacolo. Buonasera a tutti. Applausi. Applausi. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.